Buongiorno, oggi faremo i dolcetti di cocco. Andiamo a fare i dolcetti di cocco, ci stagano, ciota, cocco, zucchero, uova, chiaio, peglia, no capace ro, ve, sham e coppio ilo zghio niracitora Adesso dividiamo dal Bunga e dal Torno. Scogliamo tutto con il cucchiaio. Lo facciamo delle palline, dopo le mettiamo sulla teglia. Mettiamo un pollo a 200 gradi per 10 minuti. Sono pronti! Buon appetito!